Siamo al traffico urbano di Firenze, segnaliamo che sono in corso i lavori di rifacimento dell'acquedotto in via bolognese, tutti i percorsi alternativi sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico ferroviario proseguono i lavori per interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea Prato-Bologna. Fino all'11 agosto è interrotta la tratta Bologna-San Benedetto, mentre dal 12 agosto al 3 settembre sarà interrotta l'intera tratta Bologna-Prato. Il collegamento tra Prato e Bologna viene effettuato con servizi bus sostitutivi. Maversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!